Una volta nel recarsi a piedi all'agel di Arco ci si fermava sempre in via Lomego davanti a quell'antico e caratteristico manufatto religioso che conteneva la Madonna del Rosario di Pompei. Qualcuno ci metteva dei fiori, qualcun altro un piccolo lume, accompagnando il tutto con una preghiera, un capitello quindi venerato e rispettato come tanti altri capitelli che caratterizzano tuttora i luoghi dell'Alto Garda. Il libro I Capitelli della nostra Valle, Ben li rappresenta e li riassume con poche ma efficaci pennellate grafiche e fotografiche. A tal proposito non possiamo non ricordare l'autore, cioè Umberto Proc, recentemente scomparso, figlio di quel Mario Proc, che insieme al dottor Carlo Tamanini e a tanti altri volontari, per anni si è impegnato nel recupero e nella valorizzazione dei capitelli di Arco. Grazie a loro era stato recuperato anche il capitello della Madonna del Rosario di Pompei. Era precisamente il 26 giugno 1985 quando ne fu tenuta la cerimonia di inaugurazione. Poi, a causa dei lavori dell'ex Argentina, è sparito ed ora la testimonianza della sua trascorsa presenza c'è solo una nicchia vuota ed esolata. Il Comitato San Bernardino, a quanto è dato sapere, ha cercato di sollecitarne riposizionamento, ma finora non è successo nulla di positivo. Si sa solo che quella Madonna giace nella chiesa di San Bernardino in attesa che qualche pia anima, ma volenterosa, riesca a smuovere le acque piuttosto stagnanti. Si spera comunque che la Santa Pasqua, che si sta avvicinando, risvegli quella sensibilità per le cose del passato, fra cui certamente i capitelli, di cui il vivere di oggi non può farne a meno.